Non si placa l'ondata di furti nel Cilento, tra Agropoli e Santa Maria di Castellabate. In quest'ultimo comune è stato arrestato un trentenne colto in flagranza mentre stava provando a rubare materiale edile all'interno di un furgone parcheggiato in zona. Il giovane si trovava insieme a un complice che però si è dato alla fuga ed è ancora da individuare. Due tentativi di furto nelle ultime 48 ore ad Agropoli, uno in via Ludovico Ariosto in località Fonti, la notte scorsa intorno alle 3 una famiglia rientrando in casa ha scovato dei malviventi intenti alla fuga. Vistisi scoperti infatti i ladri hanno abbandonato la lere furtiva e si sono dileguati nelle campagne. Un altro tentativo di furto è avvenuto ad Agropoli in casa di un assessore comunale. L'episodio in pieno giorno alle ore 13.30. Il rientro dei proprietari ha messo in fuga i ladri che sono riusciti a portare via soltanto alcuni monili d'oro, indagano i carabinieri della locale compagnia. Episodi simili si stanno registrando anche tra Palinuro e Marina di Camerota e a Casa Alvelino Marina. Qui è stata avvistata una Porsche bianca che risulterebbe rubata. Alcuni residenti temono che a bordo vi sia una banda di ladri. La stessa auto era stata già segnalata in altri comuni, a Castellabate e Pollica.